Sai cosa significa mettere casa in vendita a Varese e ricevere una visita per volta con persone che ti fanno perdere tantissimo tempo e contrattano per un ribasso? E se invece la Remax Centro Immobiliare riuscisse a portarti in un solo giorno anche 40 persone mettendole in concorrenza, in competizione tra di loro per l'acquisto della tua casa, questo servizio esclusivo si chiama Open House e ti permette di vendere casa anche alla prima visita. Al massimo prezzo nel minor tempo possibile. Siamo stati pionieri di questa strategia a Varese dal 2004. Con anni di esperienza e successo l'abbiamo perfezionata per garantirti i migliori risultati. Scegliere l'Open House di Remax Centro Immobiliare significa affidarsi a un metodo collaudato e vincente. Come funziona? Facciamo una campagna di marketing mirata e massiva per attirare potenziali acquirenti. E mettiamo la tua casa in mostra in un'unica giornata creando un vero e proprio evento, creando un senso d'urgenza tra gli acquirenti. Con Remax Centro Immobiliare eviti inutili visite sparse e perdite di tempo. Organizziamo tutto per te offrendo di un servizio esclusivo che non troverai altrove. Con la nostra organizzazione, la nostra esperienza e i nostri strumenti garantiamo un successo che Centro Immobiliare porta avanti da circa 20 anni. Vuoi ottenere il massimo prezzo dal tuo immobile in pochissimo tempo? Clicca sul tasto qui sotto per scoprire l'esclusivo Open House di Remax Centro Immobiliare e scopri se anche il tuo immobile è adatto per questa strategia.